Ok, recentemente mi sono appassionato questa tecnica un po' retro, che sono l'abaco, in particolare l'abaco giapponese che si chiama Soroban, che tra l'altro nonostante il nome è importantissimo nella storia perché è stato usato da varie civiltà, e vi comprese la civiltà romana che è usato praticamente allo stesso concetto. Come vedete abbiamo una serie di accelle su cui sono appoggiate delle biglie, delle biglie che si possono muovere. Allora, le biglie quando non sono mosse, quindi sono in questa posizione, rappresentano lo zero in pratica, quindi questi sono tutti zeri, quindi in pratica è un po' ingiusto pensare che non esistesse il concetto di zero nell'antichità perché l'abaco ci insegna sia che i numeri comunque avevano praticamente decimali, avevano questo andamento, e sia, se vedete, queste sono soltanto 5 biglie, ma noi abbiamo 10 numeri. Allora, le cifre di sopra, cioè le biglie di sopra rappresentano il 5, e le biglie di sotto rappresentano le unità, quindi da 1 a 4, quindi questo rappresenta 1, questo rappresenta 2, questo rappresenta 3, questo rappresenta 4, e il 5, per ottenere 5, bisogna praticamente mettere semplicemente questa, quindi questo è il numero 5, questo è il numero 6, 7, 8 e 9, e poi ovviamente abbiamo il 10, che è fatto così e così via. Ora, notate che ci sono in tutti gli abachi dei punti di riferimento in cui ci si lavora in pratica, quindi ognuno poi li usa come vuole, ma comunque serve per lavorare e ricordarsi dove si è, altrimenti ci si confonde. Ora, come funziona l'abaco in sintesi? Praticamente, per fare una somma, basta spostare, aggiungere, le biglie specificate, ad esempio 1 più 3, prima si muove una biglia e poi si muovono altre 3. Allora, finché ci sono delle biglie sotto, è tutto molto semplice, ma se per caso noi vogliamo fare 1 più 4, ad esempio, 1 più 4 non abbiamo le biglie sotto. Le biglie sotto, non essendoci, dobbiamo procurarcele e ce le procuriamo attraverso una somma più differenza. Quindi una somma più differenza vuol dire che noi aggiungiamo intanto il 5, che però ha aggiunto una biglia di troppo e togliamo una biglia, quindi 5 meno 1 che fa 4 e questa tecnica dell'aggiungere e togliere è tipica degli abachi ed è sempre un differenziale, quindi si somma qualcosa in più e si toglie qualcosa. In questo caso abbiamo aggiunto il 5 e tolto qualcosa. Ad esempio, se noi vogliamo fare 4 e vogliamo aggiungere 1, manca. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo aggiungere un 5 e togliere 4. E quindi siamo passati da 4 più 1, 5. La tecnica che permette di aggiungere e togliere il 5 viene chiamata tecnica degli amici piccoli, no? Viene insegnato ai bambini nelle elementari, in Giappone e in Cina e in qualche altro stato, insomma, soprattutto orientale. In Italia c'è pochissima gente che usa l'abaco, quindi pochissimi lo sanno usare. Invece c'è un'altra tecnica che consente praticamente, viene chiamata la tecnica dei grandi amici. La tecnica dei grandi amici consente praticamente di aggiungere qualcosa quando non c'è proprio in questa colonna. Ad esempio, se noi abbiamo 7 e vogliamo aggiungerci 3, allora il 3 non c'è in questa colonna, non abbiamo 2, non possiamo neanche aggiungere un 5, perché è già aggiunto, e quindi dobbiamo per forza aggiungere 10. Ora a questo punto c'è una tecnica di scambio, perché se noi aggiungiamo 10 e abbiamo la possibilità di togliere praticamente 5. Quindi facendo in questo modo abbiamo aggiunto 5, ma noi volevamo aggiungere 3, quindi dobbiamo togliere 2. Quindi vedete che stiamo applicando il metodo al contrario, sommando e sottraendo il tutto in modo tale da ottenere il voluto. Facciamo un altro esempio. Ad esempio, se noi abbiamo 89 e vogliamo aggiungere 1, vedete che qui abbiamo la tecnica del riporto, praticamente vogliamo aggiungere 0, 1. Allora 0 non facciamo niente, invece aggiungere 1 qua vuol dire che non avendolo, dobbiamo aggiungere 10 e poi praticamente aggiungere 5, ma facendo con la tecnica che vi ho detto prima abbiamo aggiunto 5 e poi dobbiamo però togliere 4 per avere l'1 aggiunto, quindi questo diventa uno 0. Quindi abbiamo ottenuto praticamente 89 più 1 uguale 90. Osservate che la tecnica degli abachi funziona da sinistra verso destra, quindi la tecnica del riporto va da sinistra verso destra, cioè nel modo, se volete, più naturale, ed è diverso dalla tecnica occidentale che va da destra verso sinistra e riporta il tutto. Ora, come vedete, io sto usando un abaco sul computer, cioè in pratica sul cellulare. Il computer lo uso attraverso un LED player che mi permette di simulare il cellulare, ma è molto comodo averlo sul cellulare e lo trovate praticamente sul Play Store. Sul Play Store avete il Simple Soroban, potete aprirlo, e qui avete praticamente il Simple Soroban. Ora, il Simple Soroban ha tra le varie funzioni un ottimo e splendido tutorial, dove spiega tutto, per esempio nell'edizione spiega come si fa, e lo spiega molto bene, nel più 1, più 2, quindi parte proprio dalle basi, ma adesso è più o meno quello che avevo spiegato prima, ma nel dubbio potete comunque controllare e farlo, ma ha una funzione molto interessante che chiamo Challenge. Allora, Challenge praticamente cos'è? È un sistema per cui voi potete allenarvi a usare l'abaco, il Soroban, facendo addizioni, addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni, perché poi vedete che l'abaco in realtà è abbastanza interessante, permette praticamente di fare delle cose che normalmente in Occidente si fanno con la calcolatrice. Comunque, facciamo una cosa più semplice, che è l'addizione. L'addizione, allora, con che difficoltà la vogliamo? Facciamo Easy. E qui vediamo un intero esempio, un giro di addizione, quindi come si fa a fare 30 più 52 più 13? Allora, 30 sarebbe così, vedete che è 30, qui non tocchiamo niente, 52, 52 vuol dire un 5 e un 2, e vedete che la prima somma ce la fa vedere giusta, 30 più 52. A questo punto ci dice, sommate 13, quindi 10, 1, e poi devo fare più 3, quindi più 5 e meno 2, e ho ottenuto effettivamente il risultato corretto, 95. Faccio Next, c'è un'altra prova, quindi 54, quindi 5 e 4, devo aggiungerci 43, quindi 4, e poi qui abbiamo 3, quindi più 5 meno 2, e abbiamo fatto la prima parte, e adesso dobbiamo aggiungere 7. Ora, qui c'è un'altra piccola tecnica, che prima forse è suogita, e cioè che quando si aggiungono numeri grossi di questo tipo, e non ce ne sono nel polo, insomma, nel coso che stiamo considerando, basta aggiungerne un 10 e togliere 3, quindi 7 praticamente, e ha come riferimento 10 meno 3, quindi 7, e il 9, che non ci sarebbe qua, si ottiene aggiungendo 10 e togliendo 1, e così ho ottenuto praticamente la somma corretta. Vado ancora avanti, 48, quindi 4 e 8, più 51, quindi 5, 1, e quindi qui siamo già, è giusto, ma siamo già praticamente in una situazione di riporto, e poi per aggiungere 3 dobbiamo, sempre la stessa tecnica, 10 più 5, qui abbiamo aggiunto 5, e togliamo 2, e poi c'è il 6, il 6 non c'è qua, quindi facciamo questo, meno 4, e abbiamo fatto effettivamente la somma, che è 135. Facciamo next, abbiamo un altro, 65, 6, 5, dobbiamo aggiungere 6, che non c'è, quindi facciamo 5, questo che è 5, più 1, 6, e poi il 3 che c'è, vedete che l'abbiamo fatto, e poi dobbiamo aggiungere 9, quindi più 10, meno 1, e poi il 6, il 6 vuol dire così, più 5, più 1, 6, e abbiamo finito anche questo. andiamo next, abbiamo ancora 38, più 35, quindi 38, più 35, quindi 3, quindi 5, meno 2, e il 5 praticamente si fa in questo modo, vedete che l'abbiamo fatto, e poi il 9 lo facciamo, è abbastanza rilassante, praticamente facciamo così, e così abbiamo fatto, next, come vedete abbiamo ottenuto tutto, cioè questo esercizio, l'abbiamo completato in 2 minuti e 50 secondi, ora è possibile arrivare fino a circa un minuto, o forse anche di meno, per fare tutti gli esercizi, che sono come avete visto, un 5 addizioni, ed è un tempo che è competitivo, con le calcolatrici elettroniche, quindi potete poi fare lo share, oppure fate ok, e potete fare un'altra challenge, allora questo è tutto per l'abacco, diciamo meccanico, l'abacco meccanico che ricordiamo, che potete usarlo col tutorial, col free mode, che abbiamo visto prima, quindi free mode potete lavorarci, potete fare la challenge per esercitarvi, e poi c'è questa funzione relax, che praticamente dà dei problemini, abbastanza semplici, bisogna farne 20, quindi 14 più 24, quindi 14 più 24, questo l'abbiamo fatto, ecco, quando si completano i 20 esercizi, viene assegnato il badge, e quindi questo serve, ed è un'ottima esperienza, anche se avete dei bambini, da insegnare, perché permette di insegnare ai bambini, il meccanismo della complementarietà, dei numeri, della somma semplice, e soprattutto anche non dipendere dagli strumenti elettronici, e provare a fare come facevano, hanno fatto per tempo inenarrabile, si parla di migliaia d'anni, prima dell'avvento dei computer, quindi è tutto, grazie, buongiorno.